Siamo al Verdalia ormai abbiamo imparato a conoscerlo questo meraviglioso posto per la mente per il cuore e per anche un po la gola insieme a noi siamo nelle cucine il nostro chef Antonio Raffaele per l'ultima lezione del primo ciclo di studi di culinaria e questo primo prima sezione è finita nel migliore dei modi perché sta finendo con il dolce e Antonio si dice che le cose belle nella vita o sono immorali o illegali oppure fanno ingrassare questa trilogia è fantastica la mia trilogia invece è pur amour pur passion pur folly questo è il motto che racchiude tutta la mia vita la mia storia e la mia personalità beh sono delle cose molto forti e molto importanti quelli che hai detto stasera come si suol dire chiudiamo con il botto perché la pasticceria è il mio DNA è il mio io il mio essere che chiaramente cercherò di esprimerla e di farla di farla diventare loro più che mia stasera attraverso prescindere le preparazioni di base che vedremo ma soprattutto attraverso questa bontà che abbiamo su questi banchi a partire di queste vaniglie che ho appena portato dal Madagascar ci sono due tipologie della riserva di Mananara quindi questi presidio slow food straordinari dove la cosa più bella è che non ci sono importatori che ci sono 100 mani ma c'è stata un'importazione diretta ho lavorato tanto sotto questo punto di vista e oggi ho la soddisfazione di maneggiare diverse tipologie qui vediamo magari diverse misure attraverso le misure vediamo anche la la mano dei diversi produttori soprattutto anche la bontà ma soprattutto l'oleosità e la morbidezza questo raccolto 2014 abbiamo queste bacche straordinarie dove questo è il cosiddetto sale della pasticceria e si devono singare quando si mettono nel momento in cui poi lo vedremo dopo durante la lezione una volta ecco la cosa molto importante che deve avere questa flessibilità questa morbidezza dove una volta ottenuto avendo il baccello stirandolo lo si stira così si incide per lungo che lo vedremo dopo e si prendono i baccelli dentro chiaramente la la bacca non si butta si utilizza tutta come o in infusione o anche essiccandola facendo della polvere invece la parte interna la metteremo nelle creme mentre la parte esterna può essere tranquillamente messa nelle frolle in sablè in dei pan di spagna quindi non si butta assolutamente nulla perché è l'oro nero per eccellenza è il simbolo per eccellenza della pasticceria anche se oggi da me in primis e viene utilizzata soprattutto nel salato quindi tra il pesce crudo la rivistazione sul sashimi sui di sotto insomma a questo concetto prettamente universale la bacca viene tirata così si deve appiattire poi si incide con il coltello in maniera longitudinale guardate la morbidezza si prende la bacca la della morbidezza e la cremosità allora della vaniglia non si butta nulla poi ci spostiamo un altro simbolo della mia vita che avendo vinto poi un nazionale mondiale che hanno ciole gp piemonte sempre delle bacche di in questo caso di cannella dell'indonesia questi qui l'ho appena portati da a marzo l'ho portati da zanzibar questi qui l'ho portati invece dall'honduras cosa sono quelle delle fave di cacao leggermente fermentate e tostate la cosa più bella anche qui che vediamo la massima naturalezza del prodotto e poi l'hanno incestellato e tutto ciò che può fare alcune parti che fanno della pasticceria dal questo è un prodotto rarissimo che è la manna non so se ne avete sentito parlare qualche volta dove io nella bibbia bravissima è un passo della bibbia assoluto che poi anche c'è il detto la manna dal cielo è dovuta quindi questo qui trasuda il frassino e nelle madonie a palermo ancora oggi c'è questa particolarità che attraverso questo sbalzo termico che si crea l'estate si formano questi cristalli come se fossero degli stai lattiti e l'ho appena portato anche questa dal salone del gusto a torino un'esperienza veramente straordinaria una cosa che mi ha commosso adesso al salone del gusto è stato vedere di girare tutti gli stand del mondo la parte riservata al mondo e trovare quest'uvetta di cui mi sono un po commosso perché a prescindere la bontà di come viene fatta e soprattutto di rimane ad appassire alla pianta infatti lo si vede anche dal picciolo ma soprattutto che viene dall'affegana e stanno precisamente dai rat quindi quello mi ha commosso molto è quello che fondamentalmente mi ha colpito e non pensare soltanto a quelle persone che ci sono soltanto dolori drammi bombe ma c'è anche qualcosa di straordinario che più tardi proviamo e poi abbiamo ripreso di nuovo qui anche diverse tipologie di sale questo pure l'ho appena portato dall'indonesia capiremo davanti ai ragazzi più tardi quindi un altro tipologi sale l'alemun come vediamo anche qui vengono utilizzate delle spezie che utilizziamo nel salato il cardamomo verde le varie tipologie di sale il finocchietto selvatico il smarino il pepe di giamaica anche qui ritorniamo un po sempre con quel concetto universale di universalità per esempio la nocciola si abbina da dio con il finocchietto selvatico il il cardamomo straordinario con il cioccolato che abbiamo parlato idem per quanto riguarda il discorso della del pepe di giamaica per poi ritornare sul discorso dei sali che sono importantissimi quando si fanno delle frolle delle sablè delle sucre che danno quello quel tocco di di freschezza nello stesso tempo di di pulizia in bocca grazie al sale alla freschezza anche delle del limone quali sono le basi per una buona comunque media donna in cucina le basi per quanto riguarda la pasticceria prima cosiddettosa per conoscere le materie prime come ho detto sempre anche dal primo momento perché non bisogna confondere la vaniglia dalla vanillina è vero che il principio attivo della vaniglia e la vanillina però quella in polvere non c'entra nulla con la vaniglia vera quindi magari molti prendono quella considerando che è vaniglia lo stesso discorso per quanto riguarda il cacao di evitare di prendere dei surrogati oggi vedremo la costruzione del pan di spagna come si fa rigorosamente con la farina gestita a mano dove da un punto di vista fisico vedremo che tutto comanda l'aria incorporata all'interno delle uova vediamo questo pan di spagna che gonfia la grande ma soprattutto senza bustine senza polvere chimica senza lievito assolutamente perché la ricetta originale è senza lievito da lì ci spostiamo anche su come dicevo prima sulle frolle sull'importanza delle farine che riprenderemo di nuovo sulle sulla pasta sablè ma cos'è sablè la sablè è una derivata della della pasta frolla che rispetto alla pasta frolla a prescindere l'impasto gli ingredienti sono uguali tecnicamente l'impasto è diverso e soprattutto rispetto alla frolla più burro e quindi a pancior friabilità in bocca e questa si fa sia classica al cacao come la si vuole il segreto di questo è soprattutto il fior di sale come spiegavo prima dal pan di spagna poi ci spostiamo come ho detto alle creme sia dalle creme pasticcere in base che possono essere utilizzate attraverso anche delle creme aromatizzate palpistacchio alla mandorla non sciola quindi senza presenza in questo caso né di vaniglia né tanto meno di limone idem per quanto riguarda poi la crema pasticcera come deve essere deve essere gestita poi vedremo la crema inglese insomma tutte queste preparazioni poi andremo a degustare i dolci sul finale e far provare poi effettivamente che cosa succede anche in questo contesto e allora si comincia e noi saremo qui per voi a vedere che cosa ci combina il nostro chef si dice che dio ha fatto il cibo e il diavolo ha fatto i cuochi è vero sì questo è un detto che è un po come dire penso che sia una definizione dovuta un po al nostro estro la nostra io più che pazzia la definisco follia mi piace più interpretarli in questa in questo senso la la lezione stasera penso che sia stata secondo me più entusiasmante pure perché è un mondo a differenza del salato che molte volte si si vedono le spezie eccetera eccetera è un mondo molto particolare un mondo che tende a scoprire anche delle idee nuove e delle tecniche nuove ma soprattutto abbiamo visto una materia prima insisto su questo fino alla morte una materia prima straordinaria e come abbiamo visto una semplice frolla una semplice crema con gli elementi giusti anche già crudo senza cuocere abbiamo avuto dei risultati straordinari ed ecco le due crostate appena sfornate e una luna ha portato una sua creazione vediamole insieme si chiamano zizza delle monache ed è un dolce tipico di altamura dove si fa il miglior pane del mondo sono in pochi a farlo anche ad altamura la cosa che mi ha colpito e penso che ha colpito anche gli altri e questa sofficità in bocca è una sensazione di piuma si scioglie generalmente veramente un dolce semplice ma nella sua semplicità una straordinarietà unica grazie per il complimento che accetto perché so che proviene da una persona che ha tantissima esperienza io volevo ringraziare tutto lo staff e le persone che hanno fatto parte di questa di questo percorso con un entusiasmo straordinario a voi dell'eccezionale che sia delle persone speciali e mi auguro di rivederci presto perché non è finita qui perché tra un po decideremo di questa sfida all'interno del gruppo fra di loro per proclamare il vincitore e poi successivamente ci vedremo anche ai secondi livelli ai terzi eccetera eccetera e allora questo era il primo livello tutti entusiasti tutti felici quando comincerà il secondo il secondo prevediamo penso verso gennaio ringrazio federico il mio secondo davide e ram e noi ringraziamo a voi che ci avete seguiti alla prossima alla prossima sfida perché come dicevi tu ci sarà una sfida culinaria tra tutti i partecipanti del corso e soprattutto al prossimo corso grazie arrivederci